Stai modellando la tua struttura in acciaio ma non sai come gestire delle travi vicine tra loro? In questo video ti mostro il controllo dei riferimenti per l'allineamento e il taglio delle travi. Ciao, sono Giata Capodilupo, architetto e docente titolare del centro di formazione Adara Architettura. Disegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Se non l'hai ancora fatto, metti un bel like a questo video ed iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Il taglio determina lo spazio tra l'estremità di una trave e l'elemento in cui essa è unita. Per le travi in acciaio e le travi prefabbricate, il taglio si trova in corrispondenza di un giunto, a seconda di diverse proprietà di default. In questo video vediamo il funzionamento di default del taglio e apprendiamo come specificare un riferimento geometrico per il taglio della trave. In questa vista, tre travi in acciaio condividono un giunto. Due travi vengono inserite nella terza trave e viene impostato il taglio. Il taglio rappresenta la distanza tra la geometria della trave e l'elemento in cui la trave viene inserita. Quando una trave viene unita ad un pilastro, per default, il taglio viene impostato in corrispondenza del riquadro di delimitazione del pilastro. È possibile regolare la trave affinché si avvicini maggiormente all'anima del pilastro, selezionando la trave e facendo clic su Modifica riferimento. Seleziona, mediante il tasto TAB, la superficie dell'anima in base alla quale deve essere regolata la trave. Per specificare la distanza di taglio esatta rispetto all'anima, utilizza il parametro di taglio nella tavolozza delle proprietà. Il comando funziona anche con una geometria non perpendicolare, ad esempio nel caso di un pilastro obliquo. È spesso necessario fornire specifiche di taglio dettagliate per la documentazione relativa agli elementi del telaio in calcestruzzo prefabbricato. In questa istanza di trave rettangolare prefabbricata, appoggiata su due modiglioni, il taglio della trave viene calcolato rispetto alle estensioni della geometria del pilastro, che include i modiglioni. Il problema può essere risolto modificando il riferimento, con un'operazione analoga a quella eseguita per l'anima del pilastro e la trave in acciaio. A volte la geometria di una trave prefabbricata può risultare problematica, come in questo esempio. Quando il tipo di famiglia della trave AI viene modificato, il taglio tra le due travi aumenta. Ciò avviene perché la geometria della trave AD di supporto allontana le travi collegate. Per ogni trave unita con taglio, utilizza lo strumento modifica riferimento per specificare la linea d'asse della trave AD come riferimento comune al quale allineare la geometria dell'estremità della trave. La geometria sovrapposta verrà regolata al passaggio successivo. Specifica il taglio per entrambe le travi all'estremità regolando le proprietà a distanza relative ad estensione e taglio. In questo esempio i parametri extension 1 e taglio giunto iniziale vengono modificati per entrambe le travi con taglio all'estremità. È inoltre possibile regolare la geometria delle travi mediante i punti di manipolazione. Se non hai idea di che cosa sia il BIM e di come si applica su un software come Revit, ma anche se già ne sai qualcosa e vuoi approfondire un po' più i concetti, vuoi avere un quadro generale di tutte le potenzialità, ho preparato per te un corso completamente gratuito. Sono nove lezioni, ti arrivano via email e puoi guardarle quando vuoi senza limiti. Per iscriverti al mio corso gratuito ti basta cliccare sul link che trovi qui sotto, ti si aprirà una pagina con un form, compilala con i tuoi dati, in particolare fai attenzione a scrivere correttamente la tua email, perché è proprio via email che riceverai una volta al giorno per nove giorni le nove lezioni del mio corso completamente gratuito. Vedo l'ora di vederti dall'altra parte del corso, perché una volta che si inizia con il BIM ci si morde le mani fino ai gomiti, perché dici ma perché cavolo non ho iniziato prima e non ho abbandonato il CAD prima, visto quanto ti migliora la vita da progettista. Perciò ti aspetto all'interno del corso gratuito e noi ci vediamo alla prima lezione. Ciao!